mancavano da un po di tempo le bancarelle della manifestazione bonjour provence la france sono tornate ieri in piazza matteotti con i loro profumi e con i loro sapori ha aperto dunque i battenti piazza matteotti la manifestazione che rimarrà visitabile fino a martedì 27 ottobre dalle 9 e 30 alle 20 e 30 l'evento è promosso dalla camera di commercio italiana per la francia di marsiglia in collaborazione con l'assessorato allo sviluppo economico del comune di genova e la camera di commercio di genova ed è sostenuto dal dipartimento delle bush d'on si possono acquistare prodotti agroalimentari accessori articoli di benessere e per la casa non 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 Ci sono i chioschi che promuovono il territorio della Provenza e ci sono poi le bancarelle che offrono essenza di lavanda, piantine e prodotti di bellezza oltre al tradizionale sapone profumato, poi il vino francese Armagnac con fide canard, i dolcissimi calissons di es, i salami di toro della vicina Camargue, formaggi al tartufo e anche al pesto. Sì perché anche Marsiglia spiega a uno dei commercianti il pesto viene considerato una salsa locale, in fin dei conti dice Genova non è lontana e la nostra città è la vostra, si trovano entrambe affacciate sullo stesso mare. Grazie a tutti!